Eccoci qui, dalla Val di Fassa da Canazzei a Trento, per una serata del Trento Doc bollicine per tutta la città, che cosa state proponendo? Intanto lei Alessandro Alessandro Iori, il ristorante Hotel Fritta di Canazzei. Eccoci qui Canazzei e che cosa state proponendo? Abbiamo una tartare di trota salmonata, fumicata, marinata, eccola qua, con un yogurt all'erba cipollina, il suo caviale e una purè di raperoce con del pane di segale e farina di ceca. E con quale, secondo lei, l'abbinamento col Trento Doc com'è con le bollicine trentine di questo piatto? Benissimo, è l'ideale. Eccolo qua, l'ideale, perfetto. Voi state già degustando? Ovviamente sì. Ovviamente sì, quindi stiamo attendendo di capire l'apprezzamento del pubblico di questo piatto. Quindi, ci ricordi ancora Canazzei, dove che siete? Val di Fassa. Val di Fassa, benissimo. Il ristorante si chiama? Ristorante Hotel Rinta di Canazzei. Bene, grazie, buon lavoro, buona serata, bollicine trento per tutti. Grazie da Fara Italiana. Grazie.